Dati alla mano in questo convegno in provincia, parlate della situazione dell'aeroporto di Pescara e dite che non è vero che se dovesse andare via Ryanair l'aeroporto di Pescara chiuderà. L'aeroporto svolge dei servizi essenziali pubblici, quindi non chiuderà. Noi metteremo oggi in evidenza i motivi veri per cui Ryanair vuole abbandonare l'aeroporto e anche perché l'Italia ha già abbandonato l'aeroporto. Ma soprattutto metteremo in evidenza la non sostenibilità finanziaria della Saga, società detenuta quasi al 100% dalla regione Abruzzo, una società che si è retta finora solo grazie esclusivamente agli aiuti pubblici, considerati aiuti di Stato. Quali sono i veri motivi per cui Ryanair ha minacciato, ha detto di voler lasciare l'aeroporto di Pescara? La scusa è quella sull'addizionale delle tariffe aeroportuali, ma ricordiamo che le tariffe aeroportuali non le paga la compagnia aerea, le paga il passeggero al momento in cui acquista il biglietto. Quindi le compagnie aeree devono restituire semplicemente queste tariffe aeroportuali alle società di gestione, come la Saga, che fungono da sostituito d'imposta. Nel contratto che abbiamo visto tra Ryanair e Saga, praticamente c'è un gioco di compensazioni tra quello che deve dare Saga a Ryanair e quello che deve restituire Ryanair a Saga. In questo gioco di compensazioni per la Saga è a perdere e di conseguenza non potrà mai far fronte sia agli oneri tributari, di cui ha enormi debiti, e sia agli oneri nei confronti di Ryanair.